Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video, oggi siamo qui nella recensione di Luca Il film Disney Pixar, più Pixar che Disney, però comunque distribuito da Disney Scusate se non guardo in camera ma sto registrando con una cosa che praticamente non so dov'è la telecamera di preciso Quindi scusate se guardo un po' spostato Allora il film non l'ho visto in anteprima, però mi sono fiondato alle 9 di mattina a vederlo Tento di fare la recensione, pubblicare il prima possibile La recensione è in 4K a 60fps, però se non è in 4K magari anche in 360p non lo so Scusate, fra poco, fra qualche momento diventerà in 4K Devo iniziare, come sempre nelle recensioni io vi dico la trama del film e poi vi dico le opinioni Luca vive delle esperienze indimenticabili insieme al suo nuovo miglior amico Alberto Ma entrambi nascondono un segreto Sono delle creature marine, chiamate nel film mostri marini Provenienti da un mondo sotto la superficie dell'acqua, l'oceano Semplice Sono dei mostri marini, però non è spiegato che sono dei muta forma Quando non sono... se si bagnano diventano dei mostri marini Se sono asciutti sono umani Ovviamente nascono come mostri marini, quindi sceni divertenti dove magari devono imparare a camminare Cose così ci sono nel film e sono divertenti Comunque iniziamo con le opinioni, ah la recensione non ha spoiler Allora innanzitutto il film ha una premessa molto interessante È molto paragonabile a magari situazioni, ovviamente non con mostri marini ma situazioni Che potrebbero accadere nel mondo reale, quello che viviamo noi Il film ti fa sembrare che gira intorno a... oh vogliamo girare un mondo che non conosciamo Scoprire tutte le cose In realtà tratta di una discriminazione da parte dell'uomo verso qualcosa che non conosce O che semplicemente è diverso dal normale Il film fa ridere A me ha fatto scompisciare in certi punti, veramente stavo lì a ridere tipo tantissimo Ci sono degli stereotipi riguardo agli italiani, tipo un personaggio che fa sempre così Però non è incentrato su quello la trama, cosa che sarebbe uno schifo veramente, non me l'aspetterei da Pixar Ma soprattutto non sono invadente, cioè l'ho visto con la coda dell'occhio e mi ha fatto sorridere Non è che te lo inquadrano il gesto così che magari... vabbè il regista è italiano però magari non sanno cosa significa nemmeno Lo puoi sbirciare con la coda dell'occhio e come un easter egg che hanno messo A me ha fatto molto ridere, anche la pasta che mangiamo tantissimi tipi di pasta e mangiamo solo quella Allora di sicuro noi italiani, dato che è ambientato in Liguria, abbiamo un motivo in più per apprezzare il film Perché è ambientato in Liguria di sicuro, pure chi ci è stato o chi ci vive adorerà questo film Soprattutto le ambientazioni del film, però in realtà è anche un po' simile a un paese dove magari abito io O chi non abita in città, magari non abita a Milano, Roma così Potrebbe anche medesimarsi nell'ambientazione del film comunque Sto parlando di italiani ma anche se provenite da altri stati, non siete italiani, non siete mai stati in Liguria come me Apprezzate comunque il film perché la storia e l'ambientazione ci sta comunque La storia è, ho detto, intrigante e è soprattutto chiusa, il finale è chiuso Che è una cosa che amo dei film Pixar Potrebbero non avere un sequel, molti non ce l'hanno come Inside Out, come Ratatouille Molti invece come magari Monsters & Co ce l'hanno avuto Però comunque questo qui non deve avere un sequel per me, non lo deve avere perché se ce l'hanno non ha senso Potrebbe essere, per chi l'ha visto capisce, no? Potrebbe essere la replica di questo film qui in un'altra città Potrebbe essere questo, un sequel Oppure non lo fate perché per me non ha senso se no Premo della durata, dura circa 95 minuti, almeno c'è scritto su Wikipedia così Scorre veloce, scorre molto veloce, quasi vuoi vedere un po' di più Però poi ti rendi conto che non avrebbe senso, rovinerebbe tutto Come ho detto, il finale chiude tutto e non serve un sequel Minimamente inutile perché sarebbe un film semplicemente sulle interazioni dei personaggi tra di loro E non avrebbe una storia praticamente Bene, quindi per questa breve recensione è tutto Perché sto seguendo, non so se qualcuno sta seguendo Comunque la serie di Ratchet & Clank, mi dispiace Oggi è uscito solo il video delle 10 e un quarto Domani ne escono due come sempre Oggi c'è stata un po' questa sostituzione perché volevo fare la recensione il prima possibile Quindi abbonatevi a Disney Plus se non ce l'avete Guardate questo film, ve lo consiglio anche per una serata in famiglia Per questo vi è tutto, noi ci vediamo alla prossima Domani con Ratchet & Clank Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti